Siamo in quel conferma che si chiama Apar per piacere per cazzo poi c'è un nuovo obiettivo Lucia guarda di qua sono sempre portato da due splendide ragazze una per la destra e una per la sinistra la signorina qui alla mia destra si chiama Lucia è la figlia di Maria e se la porta via alla mia sinistra mi aiuta alla mia sinistra c'è la signora la signora la signora culo grosso la signora prossima Varsena in Varsena prossima Varsena ma perché la signora incepem Giorgetta e a posto are ceva din fir trebuie de sfacuti firul trebuie lipit acolo non stai non stai unde trebuie de sfacuti si graso vezi aia nu e nu e nu e ce a trebuit găsit unde trebuie inapoi aici pe tot finora Maria si se poate incerca ca sunt afala pe care nu se spune numai peste trei luni de zile ok dacă eram la serviciu ti-l dădea mea la un praspăt absorventul de electronica dată dulce la la signora mi place si Raffaele 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 sta spune di plăcere noi zici aveam atunci trebuie facutate Raffaele dopo lo vediamo perché adesso stiamo facendo la ripresa dopo vi da il cambio da Raffaele ora mai devi passare agli arti e se tu non vai avanti a parlare scusami la signorina era altonache della 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 di che paese hai tu? Maldon no Maldon Baccao 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 Buzzao Buzzao ah Buzzao scusami della Buzzao la Buzzao della Buzzao della Buzzao ed è la prossima moglie della signora Caretaro Fabiano è il momento la fidanzata dasci ti dipinto come la braccia ma ti dipinto poi che sta parlando la bandolina da la magia la lancia è me sì dopo procediamo Io, Fabiano Gaetano, venuto da Milano, mezzo rumeno e mezzo italiano. Lascia. E tu? E io sono venuto qua a mezzo fino e mezzo fino e mezzo fino e mezzo fino. E ho trovato la mia dolce metà, dico. E ho trovato la mia dolce metà, io metterai un po' di sale. Allora, passiamo avanti? Passiamo, sì che la ripeto. Io sono Alain Delon. La signora, la mamma, la signora Florina, che è messa a capodoro con me, faccia a faccia. E' di trucchia. Dopo, procediamo per ordine. E questa qui, la signora... A questo punto qui entro io, va. Sta andando? Questa qui, invece, dopo la signora Florina, passiamo alla signora Valentina. C'è protocollario. Che è accoppiata con il signor Raffaele. Guarda, Raffaele, dall'emozione si doveva un par di acqua minerale. Facciamo una piccola zoomata, va. Cos'è me, Raffaele, lo vediamo proprio da vicino, va. Oh, com'è bello, Raffaele, là. Bravo, Raffaele, bravo. Troppo bello. E guarda che bello, là, Valentina. Valentina, dai un bacino a Raffaele, là. Oh, no, ma non così, non mi piace questo qua. Più bello, dai. Più bello, dai. Più bello, dai. Più prolungato, eh. Com'è mi rossa, Valentina? Frumosa? 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 forse, l'ha già fatta da Lucia qui, o no? Sì, sì, lo l'ho già fatta, vabbè, la Lucia. Non bacinava Lucia. Perciò, a partire... Beh, è così, adesso, ecco. Adesso ci vediamo praticamente più tardi. Perché, sono qui, la batteria si scalla e non possiamo più procedere quando arriva qui. Il caviale, la ragostola... Hai ripreso il borsa. Ecco. La tavola, vedi, è anche la vuova. Il borsa l'ho ripreso dalla testa. Qui, sulla tavola non c'è ancora un c***o da mangiare, vedi? la gente qui si muore di fame vedi la gente si muore di fame perché non c'è ancora un cazzo da non c'è